Ragazzi siamo qui a Mestre dai Fratelli La Bufala e oggi proveremo a fare una vera pizza napoletina La pizza! Si, allora, abbiamo l'impasto e adesso dobbiamo creare un... Un cesto? Si esatto, non lo stenderlo Ok proviamo a stendere ragazzi, questo non è un cerchio però va bene lo stendere Luca, cosa stai combinando? Ma poi non so stendere la pizza Non so stendere la pizza Hai servito di fare la vera pizza napoletana? Dai, allora, ragazzi questo è un cerchio Cioè non potete dire che non è un cerchio? Allora, ci sta Ok, dai Come hai fatto? Questo è un cerchio ragazzi, sembra più un quadrato però Scusi maestro Dio Laura, ma adesso che cosa dobbiamo fare qua? Vieni qua Ludovica, ti faccio vedere io Allora, ragazzi, un piccolo aiutino ci sta Allora, faccio vedere, non gli do questo Allora, spendi la pizza Beh dai Mettiamo il pomodo, vai Beh dai sono uguali ragazzi Vieni qua, mi mette il pomodoro E qua Vado Vado Vado, ma dai questa è sempre sempre Oh mamma che buono Ma è bruttissima la pizza Dai ci sta Ti piace mamma? Sembra buona, sembra No ma guarda che tu te la mangierai, vediamo, adesso cosa ci vuole? Un po' di basilico, ci vuole sempre, eh? Un po' di basilico, 2-3 fogliolini, vai! Ma dopo chi se la mangia questa pizza? Tu! Guarda, è un po' tanto secondo voi, sì. Oh, Ludo! Ma che bella pizza che fai, Ludo! Oh, ma che bella! Guarda, ci stiamo noi, non ti preoccupare, guarda, ci sto io! Ah, mi piace se vuoi! Lo inforniamo? Va, sì! Volete vedere? Dai, ma, cioè come fai a dire che è brutta? L'ho infornata da Dio, non siete ben obbligata? Abbiamo la ciossata! Maestro, ma quanto tempo ci vuole? Amore, è quasi pronta, non ti preoccupare! Wow, che pizza che avete fatto, ragazze! Madonna di sfavolare la pizza! Piappi! Wow! Piappi! Piappi! Che bella! Sembra pure buona! Ok! Guarda! Maria, aspetta! Mamma, togliti che vola la svelata! Mamma! Vai! 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 Vai, Auri! Vado! 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 La chiudiamo così, perché è una pizza napoletana, qui da noi la facciamo così! Così che verrà più brutto, vero? No! Esame superato! Brave! See you next time! C'è parte! Grazie a tutti.